Ragazzi e ragazze sul canale di Rubaldo siamo tornati qui su Pokemon Pocket per testare la questione delle bustine piegate se danno o non danno realmente qualche ricompensa rara però in particolare oggi non andremo ad aprire la bustina piegata ma bensì andremo ad aprire una bustina integra ovviamente sperando che tra queste che diciamo il sistema ci propone ce ne sia una piegata perché se vi siete già visti il video precedente avevo aperto appunto una bustina piegata e ho trovato una carta rara questo significa che effettivamente all'interno delle bustine piegate ci possono essere delle carte rare ma da quello che hanno detto gli sviluppatori effettivamente è semplicemente quella che noi vediamo il roster con tutte le carte quindi con tutti i pacchetti da scegliere è semplicemente una cosa visiva ma già all'interno di ogni singolo pacchetto è già prescritto quello che andremo a trovare all'interno del pacchetto quindi le carte a qualsiasi pacchetto noi dovessimo aprire in realtà uscirebbero sempre le stesse carte quindi vediamo un attimino se effettivamente qui troviamo tra queste carte una carta piegata e noi però non andremo ad aprire... oh guardate è evidentissimo ragazzi già beccata questa è strapiegata ok quindi ragazzi per la scienza lo faccio per voi andrò invece ad aprire un pacchetto non piegato per vedere se effettivamente diciamo il mito si sfatta cioè nel senso qui all'interno di questa bustina piegata dovrei effettivamente trovare o una ex o una carta rara sostanzialmente o una carta che non ho qui dovrei trovare la stessa situazione tecnicamente quindi andiamo ad aprire questo pacchetto speriamo bene intanto andiamo a vedere un po' di lato e infatti ragazzi guardate qua questo vuol dire ragazzi... comunque adesso andiamo a vedere la carta eccoci qua Electrod quindi ragazzi alla fine possiamo sfattare il mito semplicemente hanno ragione i programmatori sì ci sono delle bustine piegate ok ma non è all'interno di quella bustina che troveremmo per forza le carte rare perché questa è la dimostrazione di quello che vi stavo dicendo ovviamente ragazzi fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate io penso che sia proprio così perché ovviamente se gli sviluppatori non hanno nulla da nascondere e pubblicano un messaggio del genere effettivamente perché non crederci bene ragazzi lasciate un bel like se vi è piaciuto il video condividetelo con i vostri amici e ovviamente iscrivetevi attivando la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video in uscita un saluto da Rubaldo e alla prossima ciao bello Electrod cazzo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti